Il comune di Avetrana in provincia di Taranto ha presentato un ricorso urgente per richiedere la sospensione della serie tv Avetrana, qui non è Hollywood e la modifica del titolo. La serie narra l'omicidio della 15enne, Sara Scazzi è venuto nel comune nel 2010 e andrà in onda su Disney Plus dal 25 ottobre. Il sindaco Antonio Iazzi sottolinea l'importanza di visionare la serie in anteprima per valutare se l'associazione del nome della città possa avere effetti difamatori, presentando Avetrana come una comunità ignorante ed edita a crimini efferrati contrariamente alla verità. La comunità ha sempre cercato di superare i pregiudizi legati all'omicidio, un evento che ha suscitato sgomento e una forte attenzione mediatica e Azi ricorda che Avetrana si è costituita parte civile nel processo contro Michele Misseri e gli altri imputati. Infine il sindaco evidenzia che nel 2022 Avetrana è stata riconosciuta dalla regione Puglia come città d'arte, sottolineando le qualità di accoglienza e ospitalità della cittadinanza. Grazie a tutti.